Siamo con la dottoressa Di Pietro in merito a un importante premio conseguito recentemente a Milano, ci vuole spiegare innanzitutto di cosa si tratta e quali sono le aziende che hanno poi beneficiato di questo premio. Sì, buonasera. Il premio che abbiamo ricevuto è il premio Industria Felix, l'Italia che compete, che è un riconoscimento di alta onoreficenza di bilancio che viene attribuito alle imprese italiane che si sono distinte nel corso dell'anno per performance di bilancio e affidabilità finanziaria. Questo premio è stato conseguito dalla Clinica Atena, è stato rilasciato alla Clinica Atena a Milano in una location di tutto rispetto a Piazza Affari a Palazzo Mezzanotte e sono state insegnate altre 196 imprese italiane che sono state selezionate su 700.000 bilanci italiani di società di capitali. Dottoressa, quanto è importante per un'azienda sanitaria? Questo riconoscimento credo che per un'azienda sanitaria abbia un significato ancora più forte, perché parlare di affidabilità economica e finanziaria di un'azienda sanitaria rappresenta sicuramente una garanzia per i pazienti, innanzitutto perché la società può avere l'ambizione di una progettualità futura di crescita e di innovazione e una sicurezza per i materiali che possono essere acquistati, che chiaramente potrebbero risultare di maggiore qualità, di attrezzature tecnologiche di avanguardia, quindi rappresentano una sicurezza e una garanzia per il paziente, proprio perché la società può essere orientata al futuro per una crescita e un'innovazione sempre più di avanguardia. Inoltre è importante anche per i dipendenti, perché chiaramente questo può assicurare una certezza sul posto di lavoro e può significare anche uno sviluppo in termini di formazione per la crescita all'interno dell'azienda e credo che possa essere anche importante per il territorio, perché un'azienda sanitaria non solo può assicurare posti di lavoro, ma se funziona bene, se è sana, può garantire un'attrattività anche da altre province, da altre regioni e quindi garantire una crescita del sistema economico territoriale. Dottoressa, per la clinica tende il tempo di premi? Assolutamente, sì. Circa 15 giorni fa la struttura ha ricevuto un altro premio, un premio dedicato più che altro alle attività sanitarie. Sono state riconosciute alla clinica Atena due bollini rosa da parte della fondazione Onda, che gli ha consentito quindi di entrare nel network degli ospedali rosa, vale a dire gli ospedali a misura di donna. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che vengono garantiti all'interno dell'azienda una serie di attività e di prestazioni rivolte proprio alla donna. In questo modo i cittadini possono scegliere, individuare le aziende che fanno parte del network e quindi scegliere quelle che garantiscono dei percorsi personalizzati più idonei alle proprie necessità. Bene, l'incontro con la dottoressa Di Pietro, general manager della Tena, della clinica Tena di Piedimonte, termina qui. Alla prossima. Grazie, buonasera.